I sei personaggi di che cosa parlano? Parlano dell'autonomia piena dei personaggi dall'autore e della dissacrazione del momento artistico. Che cosa vuol dire? Essere in cerca di un autore. Questi personaggi sono usciti, sono personaggi vivi, usciti dalla testa di chi li ha creati soltanto che l'autore ha compiuto un gesto incredibile, ha rinunciato a dare senso alla loro esperienza. Gli ha creati è come se fossero rimasti allo stadio embrionale, nel loro involucro. Non è stato in grado, una volta creati, di procedere nella definizione della loro esperienza. Perché a monte c'è la considerazione che rappresentare non corrisponda più a pervenire al senso della vicenda. E quindi possiamo parlare tranquillamente di dissacrazione. Perché mettere in scena un testo teatrale in cui si dimostra che il teatro è artificio e in cui si smascherano i fondamenti dello stesso fare teatrale, oppure per esempio si nega che il teatro sia cosa differente dalla dimensione del pubblico e si nega che abbia delle sue regole, quella della verossimiglianza psicologica delle situazioni rappresentate, vuol dire veramente mettere in dubbio la possibilità che si possa fare teatro. La formula è detta teatro nel teatro ed è un pretesto, in alta pagina 676 per discutere sul teatro stesso. Teatro, metateatro, finzione scenica e dibattito sul senso di fare teatro. Per arrivare a che cosa? Per arrivare alla conclusione tipica di Pirandello secondo cui non è possibile conoscere la vita o anche solo tentare di riprodurla. Finora la critica di Pirandello era stata mossa alla possibilità di rappresentare il dramma borghese sulla scena teatrale. Adesso Pirandello mette in dubbio addirittura che l'arte possa rappresentare la realtà. Ci sono sei personaggi, ciascuno ha un brandello della loro storia esagitata, irrompono sulla scena mentre una compagnia teatrale sta rappresentando, sta facendo le prove per rappresentare un dramma di Pirandello. Ciascuno è come dire frantumato nella sua visione della realtà, nell'esperienza che ha vissuto. È impossibile arrivare, è impossibile ribadisco che gli attori siano in grado di rappresentare la vicenda dei sei personaggi usciti dalla mente di chi li ha creati. Però il capo comico accetta questa sfida, sono nella parte sulla vicenda, e che storia viene rappresentata? È una storia che ha tutti i tratti del drammone melodrammatico ottocentesco. C'è un padre, proprio sono chiamati così, con la maiuscola, il padre ha spinto la moglie e la madre ad andarsene di casa a vivere con l'amante, abbandonando così il marito e il figlio. La madre trova lavoro presso un atelier di madama pace, che in realtà è soltanto, come dire, una facciata, perché dietro c'è una casa di appuntamenti, in cui, come nei migliori drammoni, esercita anche la figliastra. Se non che il padre, che evidentemente non è il pater familias di specchiati costumi del mondo latino, si presenta un giorno alla casa degli appuntamenti e manca poco che abbia un rapporto con la figlia, se non fosse che viene tempestivamente avvertito. Drammone ulteriore, la morte della bambina che affoga nella vasca del giardino e il suicidio del giovinetto. Ora capite che ha premuto un bel po' sull'acceleratore, perché ha messo dentro tutti elementi che potessero suscitare la reazione del pubblico. I piani diversi forse vale la pena che parliamo anche di questo, perché c'è un primo piano che è quello del passato, quello che è accaduto prima. Un altro piano è quello del presente. Il passato, si può rileggere il passato purché si sia in grado di ricordarlo e non si sia, come dire, vittime delle intermittenze della memoria. Se la realtà non è qualcosa di oggettivo, è chiaro che recuperare il passato diventa difficile, perché il passato passerà per la soggettività di ciascuno di noi e i ricordi non saranno univoci. Poi c'è sicuramente il piano del presente, di chi intende recuperare, ricostruire, riproporre quello che nel passato è accaduto. E in questo senso l'equivalente sulla scena, la proposizione sulla scena di quanto è accaduto nel passato diventa veramente difficile. Hanno cercato di rappresentare il dramma. Il capo comico ha detto, ok ragazzi, mettetevi comodi, rivolte ai personaggi che hanno fatto irruzione sulla scena, adesso cercheremo di rappresentare. E allora iniziano, ma la difficoltà è enorme, perché il padre dice, nel senso che l'autore che ci creò, Riga 94, Vivi, non volle poi o non poté materialmente metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più. Morrà l'uomo, lo scrittore, ma strumento della creazione. La creatura non muore più e per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sanciopanza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare, nutrire, far vivere per l'eternità. Bel pensiero, poi ci ragioniamo insieme, sull'idea che in fondo l'arte consegni dei personaggi all'eternità. Però c'è un altro passo che ancora di più ci interessa, il 175 seguenti, perché a un certo punto la figliastra scoppia a ridere e il capocomico dice, che cos'ha da ridere? La prima attrice tutta indignata, nessuno ha mai osato ridersi di me, pretendo che mi si rispetti o me ne vado. E la figliastra dice, ma no scusi, io non rido di lei, no? Ma più sotto, 180, il fatto non so è che non mi assomiglia per nulla. E poi il padre al 188 dice, non oso contraddirla signore, ma creda che è una sofferenza orribile per noi, che siamo così come ci vede, con questo corpo e con questa figura. E ancora nella parte finale 206, il padre dico, la rappresentazione che farà, dico con quella statura, difficilmente potrà essere una rappresentazione di me, come io realmente sono, capite? Sta dicendo il padre che è un personaggio, che beata l'ora che un attore interpretasse la sua storia, ma riconosce che difficilmente quello che viene rappresentato potrà essere una rappresentazione di me, come io realmente sono. Sarà piuttosto, sarà piuttosto come egli interpreterà che io sia, come egli mi sentirà e non come io dentro, di me sento. E questo è il punto, non si può rappresentare a teatro perché è comunque una falsificazione, ma perché a monte c'è il discorso dell'incomunicabilità, dell'incapacità di comprendere un punto di vista differente che sia appunto altro dal nostro. E su questo concetto di alterità e di diversità, soffermiamoci a riflettere perché ci sono le maschere, ma le maschere alla fine ci bloccano in un'identità, ma sono anche un muro, un ostacolo nella comunicazione con gli altri.